Terminati i playoff scudetto, per noi iniziano i playoff challenge. Prima della prima gara abbiamo un po' di tempo per lavorare su alcuni aspetti che sono andati meno bene nelle ultime gare o comunque durante tutto l'arco del campionato. Siamo però carichi, vogliamo disputare un bel playoff challenge che ci permette di disputare una Coppa Europea anche l'anno prossimo. Sì, abbiamo qualche defezione, qualche giocatore che non sta molto bene, ma avendo del tempo a disposizione siamo sicuri di poterli recuperare tutti. e di essere pronti al meglio per la prima partita. Sicuramente la battuta e la ricezione sono due aspetti sui quali lavoreremo durante questi giorni.